La scuola che riparte questa mattina anche in Calabria con oltre 262.000 studenti di ogni ordine e grado. La frazione più numerosa è quella delle superiori con oltre 96.000 iscritti, mentre quella meno consistente è quella delle scuole dell'infanzia con oltre 36.000 studenti. Un dato che rispecchia il crollo delle nascite che da alcuni anni sta erodendo quote importanti di popolazione residente. La prima campanella riporta in aula anche quasi 80.000 scolari delle primarie e 51.000 studenti delle medie. Una popolazione scolastica distribuita nelle oltre 3.000 istituzioni sia pubbliche che private spalmate in tutta la Calabria. Cosenza è la provincia con più istituti a seguire Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo e Crotone. E con l'inizio del nuovo anno arriva anche la saluto di Giussi Princi, vicepresidente dell'Aggiunta regionale della Calabria, con delega all'istruzione. Le sfide in gioco sono tante, dice la Princi, come ad esempio la lotta alla dispersione, una delle nostre più grandi battaglie, che, attenzione, non interessa solo la popolazione scolastica della fascia adolescenziale, ma drammaticamente sta conquistando spazi nell'area dell'infanzia, dove l'emergenza educativa si sovrappone alle problematiche della genitorialità nelle famiglie. Per questo motivo la Regione Calabria, per la prima volta, dichiara ancora la Princi nella lettera aperta al mondo scolastico, ha investito ingenti risorse sull'osservatorio regionale per il diritto allo studio, un importante strumento conoscitivo che ci permetterà di conoscere lo stato di salute del mondo della scuola in determinati territori, con approfondimenti di dettaglio molto utili per la lotta alla dispersione scolastica. Oltre ai numeri dell'abbandono scolastico per ogni contesto sociale, sarà quindi possibile conoscere le varie opportunità che ruotano intorno alla scuola. Elementi questi che torneranno utili anche ai fini della definizione delle nuove linee guida per il dimensionamento scolastico, su cui si lavorerà tenendo conto delle diverse realtà e dei bisogni degli istituti.